e ciao a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale cosa vi avevamo promesso una nuova serie in cooperativa parliamo di away out ragazzi per chi non lo sapesse questo gioco è completamente in cooperativa non c'è modo di giocarlo in singolo adesso qua c'ho il mouse in mezzo alle scatole e niente non sappiamo se è bello se è brutto se fa schifo abbiamo visto totalmente comparativo ok dai proviamolo solo solo un trailer abbiamo visto per dire sì praticamente niente recensioni sarà una blind run totale vediamo un pochino come va e si parte da partiamo ok partecipa partecipa ma gli ai tasti e per forza questo non è che bisogna fare altro i carcelati vanno in elicottero in prigione non è un po' di più 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 ma non è un po' di più spero di non avere questo con il mio nome anche io stavo per dirlo ok ah è qua a alla prima o la terza ma carta ford fi sasso sì sì ok la terza eh la terza vai Billi Bum Bam 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 noo caldo eh ti impichini ti impichino allora crimine io c'ho rapina aggressione furto aggravato scontato sei mesi su otto anni mica strada è lunga qua ragazzi ancora ce n'abbiamo 14 anni sicuro irascibile ironico è cresciuto in un ofanotrofio ed è entrato nel mondo il crimine di giovanità quando cerca cercò non sono anche lei di rubare un famoso diamante andò tutto in malora ora devo uscire di prigione e rimettere cose a posto per suo figlio, suo nome e sua madre no se stessa prego 10 frode appropriazioni indebite indebitante vuol dire sappiamo leggere che non è una tua cioè sono fatto l'obiettivo amicidio quindi sono pure peggio di te pure peggio 14 anni razionale disciplinato riservato proprio l'opposto di te un cazzo di irascibile storia dopo essersi laureato in economia ma pensa aver sposato la sua fidanzata del liceo vincent ha trovato un impiego in bar e poi ha cominciato a buttare la sua vita a merda ma infatti che fin qua cosa c'è di male obiettivamente cioè fin qua siamo ok tutto bene la promessa di soldi facili ha finito col rovinargli la vita quando ha deciso di farsi coinvolgere dal mondo criminale del crimine organizzato spesso di care ci siamo no aspetta eccolo vai studio spresenta si legge così ragazzi non ho sbagliato poi sai che sbagliato gioco di joseph fares di chi? joseph fares che babbaro fa dietro che lagga un pochino minchia come lagga signori ragazzi non sono drake c'è un computer dalla maronna e mi lagga sul suo gioco del fracchio eh attenzione non ho settato la grafica quindi forse dovevo essere troppo alta no non so non penso dai ce la può fare più credo in lui sì ma i sottotitoli oh io non capisco lì english poligoni sembrano quelli non so di mafia 2 mafio 1 cosa si tomana mi sono già dimenticate come si chiama il suo personaggio e il mio figurati sempre Joseph Fares che torna in prepotente sul nostro schermo facciamo tutte le gang la gang del bosco la gang della ringhiera è questa eccomi qua sicuramente sono io ok corri e tu sei già dentro il mio corri come lo faccio a premere questa la corso quanto pare si ma stai caldo si ma è abbastanza invadente sono momentaneamente più importante di te scusate scusa 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 non so se parlare anche con questo questo è più amichevole spero di ricavare qualche informazione tu sei inizio sei inizio si grazie ma diciamo che la mia corsa non è proprio entusiasmante è povera qua c'è il secondo mio poi c'è un negros è tutto che ho chiesto non so se mi spoglio si ma mi devono guardare mentre mi spoglio pure mi sto toccando sei pulito sto arrivando anche io qua c'è un po' che cosa ti farei eh aspetta mi devi va ti metto la nuova divisa da galeotto ah no proprio con l'uselde fora proprio ah aspetta che bello ah devo farmi una doccia il culo che cazzo è pomfranda la madonna si stanno maltrattando manco i pompieri con l'incendio tu stai in doccia ci stanno proprio maltrattando ma si vede il mio cazzo Sshhh E' tutta l'ombra, tutto grosso con tutto quello Cioè quindi è anche evitato lì, ai minori, questo gioco C'è delle, c'è delle scene porne Porner Oh, che cazzo vuole essere? Oh, mamma mia, non mi sono manco messo le mutande e ti stai già attaccando Harvey sento i suoi guardi F***a te e io Guarda dai, non sono amico C'è cazzo? Puoi anche affrontare Sshhh 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 Grazie Come sei umano We don't have all day Go 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 Oh, yeah? You don't look free to me, man Non posso annullare di alibi, te sei fa annullare Stai vendendo il mio culo mudo che cammina tranquillo E' ancora vestito Buona luck with your freedom in there Peace, man Giusto Medita Questo qua sarebbe Logan di Wolverine che è stato rinchiuso qua Sì, ma non potevano farmi vestire prima, no? Non so se vorrei parlare qui Eccoli voi Eccoli voi Hey, relax I said do it Go Hey, take it easy, man What's wrong with you? Let's go, get yourself Wow Adesso posso vestirmi? Eh, grazie C'ho invaso C'ho invaso Close up 49 Bene It took you long enough It took you long enough